Forza a Palermo! Ho letto migliaia e centinaia di stati prese per i fondelli da parte di altre tifoserie, tifosi che già parlano di fallimento, tifosi che giustamente dicono un po' quello che vogliono perché siamo al 2017 e ognuno è libero di dire ciò che vuole. La trattativa Baccaglini-Zamparini si è conclusa ufficialmente, pensate che doveva concludersi il 30 e fino a mezzanotte non si sapeva nulla e addirittura a mezzanotte tipo il sito ufficiale è uscito il comunicato delle nuove magliette, così a caso. Per magari far dimenticare alla gente per un attimo che c'era questo closing, io alla trattativa ci ho sempre creduto, sono qui a metterci la faccia anche quest'oggi, secondo me la trattativa era una cosa reale. Poi ci sono ovviamente quelli che dicono era tutta un teatrino, Zamparini ha pagato Baccaglini per farciò, io questo non ci credo perché penso che in questo caso un ragazzo, perché alla fine Baccaglini è un ragazzo, è un uomo ma è molto giovane, non andava a rovinarsi per una cosa del genere. Perché pensandoci bene, a Baccaglini, a parte qualche soldo che poteva dargli Zamparini, a cosa gli è servita questa cosa? Magari direte che gli sono serviti proprio questi soldi, ma secondo me la trattativa c'era, proprio perché è andata avanti, ci sono state tante fasi trattative, ci sono stati degli avvocati, dell'agente della finanza, delle banche che hanno controllato se davvero c'erano degli investitori, se davvero c'erano questi fondi, fondi che non sapevo mai se sono esistiti o meno, però la finanza controllava, secondo me. Per non far ripetere un caso manenti con il Parma, la Lega Calcio comunque ha dato un'occhiata. Il closing è saltato per questo motivo, almeno quello che penso io. Zamparini ha detto che la cifra era al ribasso ed era ridicolo, poi ditemi perché precedentemente aveva detto che l'accordo era stato ratificato, ma se tu mi parli di accordo ratificato due settimane prima, come fai ad uscirtene dopo dicendo che la cifra era al ribasso? Perché a quanto pare inizialmente, tipo 4 mesi or sono, 5 mesi forse, si parlava di una cifra da 140 milioni quando il Parma era in Serie A, più o meno il doppio di quelli che a quanto pare Baccaini e Company sono riusciti ad offrire alla fine a Zamparini. Cifra che poi è scesa a 70 per il semplice fatto che hanno pensato di dare 40 milioni a Zamparini per ripagarsi il suo debito, perché Zamparini è debitore con tantissime banche, un sacco di problemi, cioè Zamparini, e quindi voleva andare i 40 milioni per pagarsi questi debiti e 30 milioni per acquistare la società. Ovviamente Zamparini ha detto no, assolutamente, ne voglio 70 milioni. Ricordo che Zamparini, quando acquistò il Palermo, tanti anni fa, lo ha pagato 15 milioni. Quindi il suo problema, secondo me, non sono soltanto i soldi. Lui non ha rifiutato questo closing per i soldi. Mettetevelo in testa. Lui non ha fatto saltare il closing perché l'offerta era al ribasso, assolutamente no. Lui ha fatto saltare tutto quando ha capito che Baccaini e Compagnia Bella lo volevano cacciare via, perché l'hanno fatto capire, comunque anche quando ho fatto il video precedente, che vi invito a vedere, perché i video sul Palermo, perché di Palermo, a mio parere, sono molto interessanti, ma anche un po' per tutti gli altri, per farci un po' di cultura calcistica generale. Lui aveva parlato di Interregno, Baccaini, non so chi si ricorda, ormai Baccaini secondo me rimarrà nel cuore dei palermitani per tutte le parolone che ha speso. Ha fatto anche un video su di me, per chi mi segue su Instagram, se va, cercatelo e andate a commentarlo. E scrivete magari adesso cosa ne ha pensato dopo quel video. Ce lo ricordiamo per le parole closing, per come parlava alla fine, e non per altro. Sono usciti due comunicati, io ho aspettato entrambi i comunicati prima di fare questo video. Il primo è stato di Zamparini, a mio parere un articolo, un articolo, un comunicato alquanto ridicolo, perché parlare alla fine di io voglio bene i palermitani, quando allo stadio non ci viene da non so quanti anni, e comunque non c'è quasi mai venuto, quando dal 2011 ha fatto di tutto per distruggere il suo giocattolo, perché di giocattolo parliamo, perché quando un uomo che adesso ha quasi 80 anni, non so se li ha già compiuti ma penso di no, ha in mano l'unica cosa che lo fa divertire, l'unica cosa che lo fa svegliare la mattina e dire wow, oggi esonero lui, oggi mando via lui, oggi faccio un'intervista dove critico quello. Per Zamparini questo è tipo il pane quotidiano, quindi Baccaini quando gli ha fatto capire che appena sarebbe arrivato lui, lui se ne doveva andar via, lui ha detto no, perché Zamparini spera un giorno, nonostante la sua tenera età, non tenera età ovviamente, spera di trovare qualcuno che dà i soldi e lui si diverte, proprio per questo si parlava prima di cordata cinese, ma ragazzi miei, per chi segue il Palermo sa che a Palermo sono arrivati prima gli arabi, poi i russi, poi i messicani addirittura, poi i cinesi, tanti ne sono arrivati a Palermo, anche che sono venuti a vedere lo stadio, ma secondo me quelle erano più prese per i fondelli che altro, e non soltanto secondo me, ma un po' secondo tutti, quindi adesso il closing non si farà più, assolutamente ci mancherebbe altro, perché Zamparini vuole tenersi il suo giocattolo finché è morto e non lo separe, almeno che un giorno non capisce che se non vende rischia di far chiudere proprio tutto il gruppo Zamparini, non soltanto il Palermo Calcio, per il semplice fatto che i figli a lui soldi non gliene danno più, e questa cosa è venuta fuori un po' di anni fa. Io comunque lo ringrazierò sempre, ma ho smesso di ringraziarlo nel 2011, dopo la fine di Coppa Italia, perché chi tifa Palermo sa che Zamparini è stato un buon presidente fino a quell'annata, dopo per sei anni consecutivi non ha fatto altro che distruggere, distruggere e distruggere, e nient'altro. Ha preso per i fondelli una tifoseria intera, una città intera, che anche se non tifa tutta Palermo, chi si sente preso in giro da un anziano, che prende in giro la squadra della società, nonostante non tipi Palermo, un certo dolore, secondo me, riesce anche a provarlo. Ovviamente non tutti, perché quando ci sono Juve-Palermo, Inter-Palermo, intendo il Barbera, quindi Palermo-Inter, Palermo-Juve-Palermo-Milan, i palermitani, i milanisti, interisti, i juventini e compagnia bella, riescono a cantare chi non salta è palermitano, tutte ste cose. Non so con quale coraggio riescano, però, oh, contenti voi, contenti tutti. Adesso è tutto finito, Zamparini adesso parla come se avesse salvato il Palermo, perché non lo avrebbe mai dato al primo che capitava. Che come, caspita, fai a dire una cosa del genere, quando fino a un giorno prima dicevi è tutto perfetto, è tutto bello, sta andando tutto bene, mancano solo le firme, manca questo, manca questo, e poi è finita, e poi mi dici che non avevi le garanzie. Ma, caro mio, ok, che garanzie volevi? Tu volevi la garanzia di giocare col tuo Palermo, col tuo giocattolo. Giocare fino alla fine con i sentimenti nostri alla fine, perché non giocavi soltanto con i giocatori e gli allenatori, e andare di qua, mandar via di qua, e acquistare giocatori a caso, sperando che crescano e diventano forti. No, tu hai giocato con i nostri sentimenti. Tutta questa storia è stata una presa in giro a una città intera, perché se siete arrivati fin qui, dopo cinque mesi, a dire che non c'è le garanzie, e mi parlavate di accordo ratificato, di tutto pronto, Orlando che si è messo in mezzo, e poi salta tutto, vuol dire che c'è una cosa di malato che non va, perché avete aspettato fino ai primi di luglio, tra un paio di giorni comincia le preparazioni, e voi andate a farvi un ritiro di 12 giorni in Austria, dove diamine è, non mi ricordo, al solito bad, ci vanno tutti gli anni, solo 12 giorni di ritiro, e poi tornate a Palermo con 40 gradi all'ombra, ma state scherzando, il campionato di serie B è molto più difficile della A, mettetevelo in testa, che lì c'è da correre, c'è da lottare, non basta soltanto saper fare i giochetti, Di Bala in serie B, non faceva nulla, Belotti in B era devastante, ma perché Belotti era grintoso, Di Bala in B era molto più tecnico che grintoso, e poi ha imparato ad essere anche grintoso, a recuperare i palloni, ma servono giocatori italiani, e se ne sta parlando, anzi dicono che stanno arrivando giocatori italiani, non è ancora arrivato nessuno, e di nomi se ne sono sentiti già tipo 150.000, ma serve una preparazione atletica adeguata, per arrivare in fondo a questo campionato, quindi se tenete davvero a questo Palermo, datevi una svegliata, perché l'unica cosa che può fare il caro Maurizio Zamparini adesso, è prenderla a squadra, e portarla ancora in A, io sono purtroppo quasi certo che sarà difficile che avvenga questa cosa, quindi non ci resta altro che incrociare le dita, e sperare che nei prossimi giorni ci sia qualche novità importante, dal punto di vista del calcio mercato, perché adesso siamo ancora nelle mani di Maurizio Zamparini, e non possiamo fare altro che sperare che si dia una svegliata, e che allontani i suoi amici Kurkovic e compagnia bella. Questo video poteva essere più un video sfogo, avrei potuto urlare, bestemmiare, insultare tutti, ma non desisto di farlo perché non me la sono sentita, ok? Non mi sentivo in questo momento di far così, perché penso che sia un momento molto delicato, e partire con le offese, con certe cose, a me non va, sento molti che non andranno allo stadio, che non si abboneranno, e io penso che ognuno è libero di far ciò che vuole, io da parte mia penso che quest'anno partirò ogni tanto in trasferta, per seguire la mia scuola del cuore, perché del presidente me ne sbatto, dei giocatori me ne sbatto, a me interessa la maglia, è un senso di appartenenza, i soldi che è del mio biglietto non vanno a Zamparini, Zamparini, qualcuno pensa che Zamparini con i soldi nello stadio, si faccia i soldi, cioè con i biglietti nello stadio si faccia i soldi, si fa i soldi con le pay tv, quello si, quindi se volete potete fare la disdetta Sky, ma se volete, però i soldi nello stadio non vanno a Zamparini, cioè una minima parte andrà a lui, e non è che si fa i soldi con quello, è pieno di debiti, noi pensiamo a star vicino alla nostra squadra, ma non come giocatori che possono non piacervi, no, ma alla nostra maglia, ai nostri colori, dobbiamo star vicino a loro, perché è la nostra città, è la squadra della nostra città natale, almeno per me ovviamente, e quindi difenderla è la cosa miglior da fare, non è la Zamparinese come dicono tutti, anche se c'è lui come presidente, questa rimarrà sempre la nostra squadra, qualunque giocatore arrivi, qualunque presidente arrivi, qualunque allenatore arrivi, e qualunque proprietà cambi, rimarrà sempre il nostro Palermo, quindi non abbandoniamolo, io non potrò abbonarmi, in molti non lo faranno, ma penso che una squadra, una città, debba essere supportata, sempre, e mi auguro un giorno, e questa è la cosa che spero che accada, perché una vera svolta, possiamo darla a noi tifosi, è che la curva nord superiore, e l'inferiore si riuniscano, e formino quella meravigliosa curva, che per anni ha fatto tremare, tutta Italia, grazie a tutti per aver visto il video fin qui, io quest'oggi, quando uscirò questo video, sarò in viaggio per San Marino, quindi vi aspetto a San Marino, Rimini, comunque seguitemi sui social, se volete sapere, più o meno dove ci troviamo, in quel momento, se vi interessa, ovviamente se stai nella zona, lasciate un commento, scrivendomi voi, cosa ne pensate qui sotto, un bel mi piace se vi va, questo è sempre importante, più o meno, condividete il video sui social, questo mi interessa veramente tanto, vi ringrazio per aver visto tutto il video, adesso è tutto, vi mando un abbraccio enorme, iscrivetevi al canale, se lo avete ancora fatto, noi ci vediamo domani, con un prossimo video.